L'intera nostra penisola è interessata da un'ampia circolazione depressionaria che determina condizioni di tempo molto instabile e a tratti perturbato. La componente occidentale delle correnti espone la nostra regione a precipitazioni molto abbondanti che, già nel corso delle ultime 24-36 ore, hanno determinato accumulate pluviometriche che su alcune località hanno superato i 100 mm. Nelle prossime ore la situazione tenderà a complicarsi ulteriormente a causa di un nucleo di aria molto fredda e inquota che farà irruzione dalla valle del Rodano, andando così a determinare sulla nostra penisola una configurazione termica e barica invernale, una situazione che può capitare in primavera. Anzi, gli scambi di calore tra le alte e le basse latitudini europee sono frequenti in questo periodo. L'anomalia è relativa invece ai valori di pressione davvero molto bassi e alla quantità di freddo che affluirà in quota sorvolando il tirreno con conseguente accentuazione dell'instabilità e della fenomenologia. Infatti, nelle prossime 24-36 ore la nostra regione verrà interessata da rovesci anche intensi, con possibilità di grandinate e nevicate a quote di bassa montagna, con locali sconfinamenti anche a quote collinari. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 2 aprile, condizioni di cielo molto nuvoloso ovunque, con marcata instabilità, associata a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Nevicate saranno possibili su molte località collinari, con quota neve molto variabile nel corso della giornata, oscillando dai 500 ai 1000 metri. Accumuli importanti potrebbero verificarsi in montagna, al di sopra dei 1000-1200 metri. Possibilità di grandinate, specie nella prima parte della giornata. Le aree maggiormente interessate dai fenomeni dovrebbero risultare quelle comprese tra la Piana del Sele ed il Cilento Meridionale, specie ai settori al ridosso della catena appenninica esposti ad ovest. Tuttavia, nel corso della giornata non mancheranno brevi schiarite. Temperature insensibile diminuzione, venti forti tra ovest e sud-ovest e mare molto agitato con possibili mareggiate. Domenica 3 l'instabilità tenderà ad attenuarsi con precipitazioni sparse che insisteranno nella prima parte della giornata segnatamente nelle aree al ridosso dei rilievi e sul medio e basso cilento. Ancora possibilità per spruzzate di neve al di sopra degli 800-1000 metri. Temperature senza particolari variazioni su valori abbondantemente al di sotto della media stagionale e con possibilità di gelate durante la notte nelle aree più interne e montuose. Venti moderati con tendenza a diminuire di intensità dal pomeriggio sera e mare mosso. Lunedì la situazione migliorerà decisamente grazie alla formazione di una depressione ad ovest della penisola iberica, la quale convoglierà correnti meno fredde da sud-ovest sulla nostra regione. Grazie all'aumento della pressione a tutte le quote, l'instabilità tenderà ad attenuarsi e le temperature ad aumentare anche in maniera sensibile tra martedì e mercoledì. Tuttavia non avremo l'inserimento di un campo di alta pressione per cui nel corso della prossima settimana potrebbero giungere altre perturbazioni ma in un contesto termico in linea o al di sopra della media del periodo. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.